Melania Gabbiadini, dopo Morace e Panico tocca a te entrare nella Hall of Fame del calcio italiano peraltro a pochi giorni dalla vittoria del pallone azzurro, insomma tanti riconoscimenti, che emozione? Per me è un anno importante, è un anno particolare, è stato ricco di premi e di soddisfazioni e questo credo che sia un qualcosa di speciale. Quindi entrare a far parte di questa Hall of Fame di fianco a calciatori che hanno fatto la storia e soprattutto calciatrici che hanno portato avanti il calcio femminile, per me è un onore. Tanti riconoscimenti, cinque scudetti, diverse coppe, quali soddisfazioni magari anche in chiave azzurra vorrebbe togliersi ancora Melania Gabbiadini? Sicuramente sì, col club ho vinto tanto e mancherebbe qualcosa con la maglia azzurra. Io credo che siamo cresciute tanto a livello di squadra, a livello di federazione. Adesso ci giochiamo un europeo, quindi ci stiamo preparando al meglio per questo e speriamo che possa portare ad un risultato importante. Comunque noi lottiamo sempre per questa maglia e sicuramente se il gruppo è unito sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni anche in chiave europeo. Nella sua carriera Patrizia Panico si è spinta anche oltre i 40 anni. Le tue intenzioni per il futuro quali sono? Non lo so, adesso non ci ho ancora pensato, fisicamente sento che comincio un po' ad arritrare però comunque finché c'è il divertimento e il fisico me lo permette andrò avanti. Poi ci devo ancora pensare bene e vedremo a fine campionato, poi ci penserò. Grazie a tutti.